Io sono Giuliana Papurello, mi occupo di Sales, Marketing e Comunicazione per la Do It, azienda impegnata da anni ormai nel mondo del digital signage, dall'allestimento digitale di showroom e eventi a creazione di campagne di advertising outdoor e indoor nel mondo più creativo e tecnologico e quindi siamo dei sistemi integrator a metà tra l'ingegneria e la creatività. L'ISE è sempre un appuntamento fondamentale per noi di aggiornamento sulle nuove tendenze di mercato dal punto di vista sia dei settori in cui operare, sia dei fornitori a cui fare riferimento, sia per trovare ovviamente nuove opportunità di sbocco di mercato, di clienti. La cosa fondamentale che offre Infocon, che dal mio punto di vista è importante sia come giovane che come donna in particolare, è l'opportunità di networking, quindi di contatto, di fare associazione, di creare cultura sugli argomenti, anche in base alle categorie, quindi appuntamenti dedicati ai giovani, appuntamenti dedicati alle donne a cui sono orgogliosa di aver partecipato quest'anno, anche perché è un mondo questo, a metà tra l'IT, l'audio video, la comunicazione, l'integrazione, l'ingegneria, che è molto maschile. Quindi portare un occhio femminile sulle nuove tendenze di mercato tecnologico è sicuramente fondamentale. Io vorrei appunto sottolineare questa importanza.